Music, news, sport, every day for you on the web, lecochannel.it, the blue light, blue radio. Mister, ci prepariamo al primo grande match della stagione, vale gli ottavi di finale di una competizione nazionale importante come la Coppa Italia, sarebbe il miglior piazzamento raggiunto dal 2013 in avanti, ci sono tanti ingredienti che rendono questa partita fondamentale per il prosieguo della vostra stagione. Sì, noi vogliamo passare, la società vuole passare, il Presidente ha chiesto chiaramente di passare, noi sappiamo quanto è importante portare la Coppa almeno alla fase finale, quindi comunque alla primavera, perché abbiamo una rosa formata da tanti giocatori importanti che vogliono giocare partite importanti, e questa lo è anche per il tipo di avversario e quindi a prescindere da quella che è la tradizione, l'importanza che ha per i tifosi, lo è anche per noi proprio dal punto di vista pratico. Farai scelte diverse rispetto a domenica, cercherai di variare qualcosa dal punto di vista non tattico, dal 4-3-3 non ci si discosta, parlo ovviamente di uomini, c'è uno che mi viene in mente, Merli Sala, lui c'era quando leco retrocessi a Mantua e quindi credo abbia ancora il dente avvelenato da sette anni. Cambierò qualcosa, 4-5-6, adesso vediamo titolari rispetto a domenica, ma perché ho giocatori disponibili, Merli Sala è uno di questi, ma adesso non ho ancora deciso se lo farò giocare, l'unico certo è Lella perché Capogna è indisponibile, gli altri vediamo un po' stanotte. Voi siete la grande favorita del girone A, siete in testa al girone A, il Mantua è la grande favorita del girone B anche se insegue il Como a due punti di distanza, ha giocatori di enorme calibro soprattutto nella fase offensiva. Ci sia una squadra forte, una squadra con un attacco importante, per me è la vera favorita del girone B, però siamo forti anche noi. Sono curioso di vedere la contrapposizione tra il loro attacco e la nostra difesa e viceversa la loro linea difensiva con il nostro attacco. Io penso che di solito si dice che le partite si vincono al centrocampo, questa volta secondo me la differenza la faranno il confronto tra i reparti offensivi dell'uno e la linea difensiva dell'altro. Hai parlato con la tua difesa, seguendo questo discorso che ci avevi fatto poi in conferenza stampa domenica quando avevi un po' bacchettato i tuoi. Sì, sì, beh, ho parlato ma la fase difensiva sulle palline attive va migliorata in generale, la linea difensiva però secondo me è ponte, domani fa una partita importante. Grazie mister, buon lavoro. A voi.